Milioni di euro per adeguare gli ospedali con i fondi Covid e a Sapri solo le mollichelle. Torna la carica sapri-democratica su un tema caro al gruppo, quello sanitario, in particolare legato alla tenuta e al potenziamento dell'ospedale di Sapri. Questa volta tutto nasce da una delibera dell'Asl di Salerno, la 381 del 2021, con cui l'azienda riassegna nuovi fondi dell'emergenza Covid, frutto delle economie del primo riparto, ai lavori di adeguamento di alcuni pronto soccorso. Ad usufruire di queste somme, per un ammontare totale di 2 milioni di euro, gli ospedali di Vallo della Lucania, Sarno e Nocera. Inoltre, con la stessa delibera, vengono assegnate anche le risorse per l'acquisto di attrezzature elettromedicali, circa un milione e mezzo di euro, assegnati tra gli altri agli ospedali di Scafati, Nocera, Battipaia, Eboli, Rocca d'Aspide, Oliveto Citra, Vallo della Lucania e Agropoli. Due azioni per il mondo sanitario che lasciano a bocca asciutta il presidio saprese, una cosa che non va giù a Sapri Democratica, che continua a tributarne la colpa all'assenza di peso politico dell'amministrazione comunale. Ancora una volta, dicono dal gruppo, a Sapri spettano zero euro, nonostante le gravissime criticità del nostro pronto soccorso, fortemente amplificate dall'emergenza Covid, e nonostante le gravissime carenze di attrezzature, più volte denunciate da operatori e sindacati. Ci chiediamo, ma il sindaco di Sapri c'è? Che cosa fa? Siamo molto preoccupati per l'assenza della città nei momenti decisionali, per il ruolo sempre più marginale di retroguardia in cui hanno trascinato Sapri. La nostra comunità, conclude Sapri Democratica, è umiliata dalla soddisfazione di altri sindaci, che portano a casa risultati importanti per i loro ospedali, approfittando della manifesta inadeguatezza di Gentile.